E well ragazzi io sono Ucalabressi, vi do il benvenuto in questo nuovo video guida di Fortnite Ci siamo ragazzi con le sfide settimana 2 season 8 Vi ricordo che usciranno oggi alle 15 ed in live le vedremo insieme Ma prima di cominciare ragazzi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto E supportarmi come creatore jkr-ucalabress E in ogni caso raga in sua impressione avete tutte le sfide di questa nuova settimana Sono tutte abbastanza semplici L'unica che potrebbe creare un po' di problemi se non sapete i posti E' appunto l'ultima sfida che è quella di trovare i vari punti cardinali nord, est, sud e ovest Ma adesso per semplificarvi le cose andremo a vederlo insieme Quindi partiamo subito con il video Eccoci qui ragazzi atterrati al punto west Ovvero al punto ovest, il lato più lontano della mappa Che si trova precisamente qui a spiagge snob Ecco qui ragazzi, questa è la mappa completa Vi buttate a spiagge snob E questo è il punto più lontano dalla parte ovest Non vi potete sbagliare perché ci sta il cartellone qui Ecco fatto, ci dovrebbe dare la missione Vi ricordo che queste missioni usciranno alle 15 di oggi pomeriggio Adesso andiamo al punto nord ragazzi Siamo atterrati al punto nord, quello più lontano Precisamente a crocevia del charpame Quindi premiamo M ragazzi Ecco qui, crocevia del charpame Possiamo vedere che se tracciamo una linea La parte più lontana dal lato nord è proprio qui Ovviamente non vi potete sbagliare per la presenza del cartellino Ok? Quindi nord, questo è il punto nord più lontano della mappa Ricordiamoci che la parte nord è tutto questo lato qui della mappa E possiamo vedere che seguendo appunto i contorni della mappa Ci troviamo nel punto C precisamente Quindi qui dovrebbe essere tutto chiaro Adesso passiamo al cartellone est Che dovrebbe essere precisamente qui Andiamo a vedere Ci siamo sbagliati di poco ragazzi Il puntino l'avevo messo lì Invece il cartellone è proprio qui Siamo al cartellone est Quindi la parte est della mappa Possiamo trovarla precisamente qui dove ho messo il puntino Ok? Quindi tra rifugio ritirato Corso commercio Qui alla pista dei co-karts Non vi resta che avvicinarvi E vi dovrebbe dare tranquillamente la missione Adesso andiamo a vedere ragazzi L'ultima parte è la parte sud Ovvero la Calabria Oh mio dio stiamo per atterrare in Calabria ragazzi Ah no è solo a Prodo Avventurato Uh l'anca del Puerco raga Cioè l'hanno fatta apposta a sud a mettere A mettere il maialino raga Ma che cacchio sta succedendo Vediamo qua Oddio L'anca del Puerco raga Il punto sud della mappa Precisamente ad Approdo Avventurato Dove ci sta il Puerco Che è praticamente qui il Puerco Quindi qui ragazzi Ultimo punto Vi avvicinate E alle 15 di oggi pomeriggio Vi dovrebbe dare tranquillamente la missione Facciamogli il cuore al Puerco ragazzi E lo salutiamo E torniamo in lobby raga Mi raccomando ragazzi Se questo video vi è stato utile Lasciate un bel like Se vi ho strappato un sorriso Con l'anca del Puerco Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E supportatevi come creatore Anche per questa season JKPR-Cardless Grazie mille a chi mi farà Fatemi sapere nei commenti Se riuscite a fare la missione tranquillamente Ci vediamo al prossimo video Ciao belli Ciao belli